Versa in uno stato ottimale il reparto di medicina, ad oggi inutilizzato all'interno dell'ospedale di Fossombrone, lo assicura il consigliere regionale Giacomo Rossi, che ieri si è recato nella struttura per verificarne di persona la situazione. Basterebbero poche settimane sia per riattivarlo, ha detto il consigliere, sia per metterlo a disposizione, in caso di necessità, dei pazienti Covid e post-Covid. Con un ingresso separato si permetterebbe la continuità di tutti gli altri servizi nella massima sicurezza. Sì, sono circolate purtroppo sulla stampa delle notizie allarmante anche di farmatori, sia delle istituzioni ma anche del personale che lavora all'interno di questo presidio ospedaliero, che dicevano che c'era stata una certa promiscuità, si facevano entrare dei contagiati. Ecco, queste sono solo illazioni, illazioni che sono state e vanno smentite, la struttura di Fossombrone è sicurissima, nei padiglioni chiaramente che funzionano, tanto più potrebbe essere ancora più sicura se, nell'eventualità che servisse, i pazienti Covid e post-Covid fossero messi in questa aula, diciamo, ala di ospedale, che tra l'altro ha in previsione un rifunzionamento. Quindi io dico, si prenderebbero due piccioni con una fava, quindi si temeremmo, diciamo, quell'ala di ospedale e potremmo subito, eventualmente, utilizzarla per questa emergenza. In che modo porterete avanti questa proposta? Allora, io appunto ho fatto un sopralluogo sulla struttura, ho riferito quello che ho visto all'assessore competente, quindi l'assessore farà le dovute valutazioni per eventualmente procedere a rendere operativi questi spazi.